Mamma, si può sapere perché c'è sempre Meoni collegato? Ma perché vuol fare la quarantena con noi? Prima ok, ogni tanto collegato, però ora tutto il giorno deve stare... È solo sulla Sila che fastidio ti dà! Mamma, tutta la quarantena fino a che giorno? Fino al 15 maggio? Se basta, se basta! Oh, oh, oh! Sto leggendo! Mi spiegliate, ma io mi sento lo stesso, eh! Scusa, mi dispiace! La senti, ti senti? Mi dispiace, dai! Non so, anche perché sto cercando di potenziare la mia mente! Maria Maria! Eh! Eh, chi viene, eh? Chi viene a giocare con me a Scarabeo? No, a Scarabeo adesso non posso! Guarda, perché sto facendo in cucina delle cose! Edoardo, vai qua a giocare a Scarabeo con me! Ti prego, ma ti prego! Roby! Roby, vai a giocare a Scarabeo con me! Guarda, siamo in quarantena, bisogna collaborare! Vai a giocare! Viene Roby! Ma come Roby? Oi Roby! Ma chi mi ha mandato? Un piccirito mi ha mandato! Eh, io voglio vincere così, secondo voi! Voglio vincere il piccirino, non lo faccio! Eh, però... Buon appetito! Buon appetito! No, 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 lo dico io! Uno, due, tre! Buon appetito! Si comincia! Buon appetito! Buon appetito! Lo prenditi quel cappello, a Tano, ad educazione a meno! Che fai! E Maria! Eh! No, ferma! Guarda che tu fai sempre quel rumore quando ti succhi il brodo, fai sempre... Per favore evitalo che mi dà fastidio! Succhio il brodo! Ma cosa dici? Ma non è bene! Facciamo così, facciamo così, adesso si mangia in silenzio! In silenzio come i fratelli! In silenzio! Ma ho capito! Ma se mangiando in silenzio tanto vale la pena che mangio da solo, scusami! Eh! Eh! Ma si è già mandato stotto pure sto pranzo! Senti però dai! Quando sei in bagno chiudi la porta! Ma come chiudi la porta? In bagno? Da solo! Sto chiusa qua da un mese! In quarantena! A casa mia! Devo pure chiudere la porta! Scusa! Non entrare tu! No! Vabbè dai! Ok! Hai ragione! Scusa! Però quando hai finito dimmelo eh! Aspetta! Aspetta! Ho finito! Aspetta! 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 Aiuto! Ma non è bene! Cosa succede? Cosa succede? Mamma sono le quattro del mattino! Un incubo! Un incubo fa tutto! Si! No! E' che ho sognato che hai un gabbiano! Vabbè! Senti! Guarda! Noi siamo stanchi! Vogliamo dormire! Ho capito! Mi hai esasperato! Ma ho capito! Ma vieni da quando ero piccolino! Ti raccomando! Va bene! Ciao! Ci vediamo domani! Prendi una pastiglia! Dormi! Ciao! Vieni! Ma non ce l'ho le pastiglie! Le supposte! Va bene anche la supposta! Sono bene! Ti provo! Buonanotte! Buonanotte! L'unica gattonale così lui non ci vede e così lo freghiamo! Sì mamma! Adesso nessuna! Tu sono! Finiamola per chi ti amo! Io sono esasperata! Tu sei esasperata! E' una giornata! Finiamola! 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 Chi toccava! Chi toccava! Io mi scuso con tutti voi che ho avuto questa idea! Prendi Dado e ti raccomando! Cosa devo fare! Dai! Devi vendermi il parco della vittoria! È un incubo! Ehi! 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 Ehi!